Benvenuto al mio ospite di oggi che è Giovanni Ferrero. Buongiorno Giovanni. Ferrero è il direttore del Comitato per le persone in difficoltà. Buongiorno, ben trovato. Allora, perché trovarsi con Giovanni? Perché ci interessava capire, avendo dato una sommaria occhiata al calendario e ai prossimi eventi degni di nota in Italia e non solo, abbiamo scoperto che il 3 di dicembre prossimo sarà la giornata internazionale dedicata alle persone con varie disabilità, varie difficoltà. E allora ci siamo chiesti, chissà a Torino come stanno i portatori di handicap, chi ha difficoltà a muoversi o vive con varie forme di barriere con cui fare i conti tutti i giorni. e tu sei sicuramente l'interlocutore migliore, visto che ti occupi di questi temi da un po' di tempo. Sì, allora, il 3 dicembre, anche se non posso dire molto perché sono il mio ufficio stampa, poi mi bacchetta perché abbiamo la conferenza stampa, quindi approfitto per invitare tutti te, Carlotta e tutti i tuoi colleghi anche dell'alta televisione, il 25 novembre prezzo a Piazza dei Mestieri via Duranti, la conferenza stampa di presentazione degli eventi perché il 3 dicembre è una giornata, innanzitutto faccio un po' di storia, che è stata istituita dalla Commissione Europea negli anni 90. Poi dal 2003 è diventata giornata internazionale delle persone con varie disabilità e Torino in Italia è stata la prima città a fare degli eventi durante questa giornata, già dal 94 e l'ha fatti insieme ovviamente alla città di Torino con la consulta a persone in difficoltà di cui sono il direttore. Quest'anno, senza dire troppo, sicuramente c'è l'ennesimo appuntamento stupendo, bello, con 3 mila ragazzi delle scuole del Piemonte, dalle materne fino alle superiori, che vengono a Pallaruffini, non sarà il 3 ma il 2 dicembre, a festeggiare, a fare un po' di festa, musica, testimonianze, insieme anche ai loro ragazzi con disabilità. La cosa bella di questo evento è che comunque lì le differenze non si vedono, si capisce che quando il cervello è ancora fresco, io parlo proprio dei giovani, non ci sono barriere, le barriere poi siamo noi adulti che le mettiamo o ai nostri figli oppure le metterò appunto ai giovani che crescono, poi speriamo, speriamo che questa nuova generazione no, però si cresce con queste barriere soprattutto culturali, perché il grosso problema delle persone con disabilità è che incontrano non tanto le barriere architettoniche ma le barriere culturali, nel lavoro, nelle strade, nei negozi, e poi è ovvio che la barriere culturale porta alla nascita di una barriere architettonica, perché se io parlo con un negozio e dico che è importante che metta uno scivolo a prescindere le leggi, dice sì ma tanto i disabili non vengono, ho capito, ma se non mette lo scivolo il disabili non verrà mai, quindi è un po' il gatto che si morde la coda, e quindi allora è importante che poi ci sia una legge che dice no di metterlo scivolo, su questo il Comune di Torino già anni fa con l'aiuto dell'associazionalismo ha attivato comunque dei processi anche di regolamentazione, oggi un negozio si fa opere di manutenzione straordinaria, prima di cambiare un insegno, un infisso, di quelli di là, è obbligato a rendere accessibile il suo negozio, questo è molto importante, perché fino a ieri solamente per la legge 503 a livello nazionale era solamente su ristrutturazione, ma non voglio entrare troppo nei tecnicismi, se no poi il pubblico non ci segue, comunque la situazione oggi mi hai chiesto Carlotta, la situazione oggi è una situazione positiva in certi versi, perché la velocissibilità è aumentata, quindi ci sono negozianti che comunque, sopra la legge hanno reso accessibile il proprio negozio, più che negozio prendiamo forse degli alberghi, ecco il turismo in Piemonte, in Torino si sta lavorando molto bene, l'80% di musei che sono accessibili, se non 90 addirittura, è accessibile a 360 gradi, non solo per i disabili motori, uno pensa sempre alle carrozzine, ma anche a livello proprio di musei tattili, quindi anche per i sensoriali, quindi si sta lavorando molto per quanto riguarda il turismo, e sicuramente quello che invece è il grosso problema, è quello che riguarda la sanità, la sanità, questo per i tagli, adesso qua stiamo vedendo delle immagini, ovviamente di una dimostrazione in regione, per il discorso dei tagli che sono stati a livello sanitario, quindi si rischia che certi livelli esistenziali di servizi vanno a mancare, e questo è molto grave.